Ricostruiamo e ora più che una esortazione e un vero e proprio imperativo per il gruppo dirigente di Forza Italia che all'indomani delle elezioni regionali vinte da Luciano D'Alfonso e dal centro-sinistra aveva criticato le scelte politiche di strategia elettorale del coordinatore regionale Nazario Pagano. Per Mauro Febbo, ex assessore regionale della Giunta Chiodi e tra i primi ad ammettere la sconfitta netta e pesante degli azzurri, le sberle elettorali devono servire a ricostruire il partito partendo anche da manifestazioni come quella del prossimo venerdì pomeriggio alle ore 18 al porto turistico Marina di Pescara. Nell'ultimo periodo il partito è diventato troppo verticistico, si è chiuso e invece noi vogliamo che il partito ascolti i territori, tanti saranno i sindaci presenti, tanti saranno gli amministratori, tanti dirigenti presenti ma soprattutto anche tante le categorie che per troppo tempo forse non abbiamo dato ascolto e soprattutto non abbiamo saputo dare magari anche qualche risposta. Io credo che con questa crisi oramai bisogna starci in mezzo alla gente e capire veramente i bisogni. A me sembra che a livello nazionale ci siano solamente spot ma non soluzioni, a livello regionale c'è un immobilismo che oramai dura da troppo tempo e bisogna cominciare a affrontare i problemi. Credo che ci sia anche la necessità di un ricambio generazionale, c'è la necessità di valutare attentamente quelli che sono gli attuali amministratori. Abbiamo una classe dirigenti di giovani che si metterà in mostra venerdì ma che si è già messa in mostra. Magari c'è stato un partito, quello di Forza Italia, che era un po' sbilanciato anche territorialmente verso il Terramano, non è così? Ma non lo so, può darsi che sia stato anche questo, però io credo che ci sono tante ragioni che abbiamo esaminato, su cui ci stiamo confrontando, finalmente qualcuno si è deciso a convocare non ciò che abbiamo detto noi, ma qualche altra cosa, ma intanto questo qualche altra cosa ha messo sì che per la prima volta in Forza Italia si sia avuto un aggiunto di coordinamento che è durato oltre otto ore. Questo credo che faccia bene al partito, alla gente, faccia bene le istituzioni, faccia bene soprattutto magari anche l'economia di questa regione che non è che vada molto bene. Grazie a tutti.